ritorna la mia collaborazione mensile con il raccoglitore.com come dici non sai che cos'è il raccoglitore.com è presto detto è un sito fenomenale che tratta di argomenti dei più disperati dall'attualità all'insegnamento a qualsiasi altra cosa attraverso il filtro della narrazione ogni articolo è una storia e questo veicola i significati in maniera diretta e interessante quindi troverete storie di tutti i tipi che vi parlano di qualunque tipo di argomento quindi vi invito naturalmente lasciare un mi piace alla loro pagina e andare a visitare il sito e questo mese per la mia rubrica dedicata all'istruzione all'apprendimento vi parlo di un personaggio gigantesco Ann Sullivan considerata forse una delle insegnanti più grandi della storia chi era Ann Sullivan beh era una ragazza sfortunata con una storia piuttosto tragica alle spalle che ha perso quasi completamente la vista molto presto nella sua vita e dopo aver perseverato ed essere riuscita comunque a diplomarsi a studiare è diventata una grande insegnante una tutrice ed è riuscita a prendere una bambina più sfortunata di lei Ellen Keller naturalmente se la conoscete che non soltanto era cieca anch'essa ma pure sorda quindi sordo cieca e l'ha portata ad un livello incredibile è riuscita a rivoluzionare i metodi di insegnamento di didattica proprio insieme ad Ellen Keller ed è arrivata a un risultato che non vi spoilerò perché lo troverete nell'articolo e quindi andate a leggere subito il link ve lo metto qui sotto il mio articolo di questo mese andate sulla pagina di il raccoglitore e mollate il classico mi piace poi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo articolo naturalmente ma soprattutto della gigantesca Ann Sullivan gli occhi di Ann li trovate qui sotto